la sinergia 2019 l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi siamo in compagnia di massimiliano pochetti presidente di casa share massimiliano grazie per esserci anche come sponsor un commento a margine di questo evento mi piace tantissimo lo sfondo con tutte le firme bellissima questa cosa no ancora no quindi poi lo farò dopo l'evento un evento secondo me importante un evento che che manca cioè che mancava perché adesso c'è e quindi c'è l'opportunità di poter parlare di tecnologie e di tutto quello che può influenzare il settore del real estate quindi per un'azienda che fa tecnologia come la nostra non poteva non potevamo pensare insomma di non esserci e quindi di essere presenti a questo importante evento che tu ovviamente hai magistralmente organizzato casa share cosa può fare in un minuto degli agenti immobiliari siamo ad oggi e vogliamo essere lo strumento principe per l'acquisizione inoltre lavorando sempre in tema di big data vogliamo comunque offrire altri strumenti tra cui analisi di mercato e presto anche analisi del patrimonio immobiliare per riuscire insomma ad accompagnare i professionisti del settore in questo mercato che diventa sempre più competitivo e più legato alle informazioni alla gestione delle informazioni per raggiungere casa share sito web www.casashare.it basta anche scaricare l'app direttamente dagli store play store apple store e per accedere ai nostri strumenti in maniera anche gratuita grazie mille ci vediamo nel 2020 grazie